Un aiuto per camminare e un supporto in fase di riabilitazione per anziani e non solo. Tutto questo è Astro, il robot realizzato nel laboratorio dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Astro ha un maniglione sensorizzato che avvia il movimento in base alla pressione esercitata. In questi giorni il robot viene sperimentato dai pazienti di geriatria e della medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale di San Pio, che hanno suggerito ai tecnici miglioramenti da apportare. Gli utenti di Astro sono le persone anziane con un certo tipo di fragilità o comunque con un minimo di riduzione di capacità motorie e anche i caregiver, che sostanzialmente utilizzeranno Astro come uno strumento in più per migliorare la loro capacità di assistere e di servire le persone anziane. Il robot è intelligente perché sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale che consentono adesso di adattarsi al cammino della persona e di navigare con sicurezza all'interno degli ambienti e anche evitando ostacoli. Il casasolivo della sofferenza sta fornendo all'Istituto Sant'Anna il substrato per la creazione di uno strumento che sia realmente utile al fine dell'utilizzo degli anziani e che possa rispondere realmente alle loro esigenze. Questo strumento permetterà da una parte di aiutare le persone a deambulare e non solo, anche di monitorare dei parametri per valutare nel tempo come questi variano. in particolare la forza muscolare, la velocità del cammino e anche la massa muscolare.